ora faccio la squadra Miracembe o Slitice, prima di essere una squadra forte allora portiere Udinese Triched, è fortissimo poi 4-3-3 sempre, un difensore Udinese Blombant, pure forte ma il team centrale vediamo, difensore centrale sinistro, Kipobani, Kipobani, un difensore Rasambadori, Virkobud scelta, poi Udinese, difensore destra a destra, vediamo, un difensore Venezi, Veloso poi facciamo difensore sinistra a sinistra, Kipobani, 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 Sampadori, Trieste pure è forte, poi c'è una pista tan grippata, vai, vediamo un po', c'è una pista da Roma De Rossi general, vai vai vai, poi ho messo la team, ma questo è il Champions con De Rossi, ho messo l'Atalanta, chi ci può stare? Muriel, ho messo a casa sinistra, ti è ingrippato, ho messo Milano, lei ha o Muriel, lei ha o Klichmann, ti è ingrippato, io mi attaccando i cini, attaccando i Klichmann, ma io mi ha scattato con la mi sento ingrippata che sto in fase di compragiocatori l'attaccante l'embre... e chi c'è sta l'attaccante l'embre? un po' in Champions League con l'attaccante l'embre, non mi serve, grazie vai un altro, wow, è cata voglia l'attaccante l'intero, frate, chi c'è sta con l'attaccante l'intero? a me è forte, mamma mia, wow, l'ultimo attaccante, no, è nata, mi dimmi una poca l'attaccante l'embre, non mi serve, wow, grazie allo stesso vediamo un po', l'ultimo attaccante è ingrippata, ingrippata, non mi serve, mi serve una squadra forte l'ultimo attaccante la Champions, ehi, va niente, mi prendi il riberino